Cosa che chiama? Il toro Facciamo allora il toro che risponde, vediamo come risponde Questo era il toro? Che risponde che è dentro, più un po' sentito Si sono dati l'appuntamento fuori, giustamente E la mucca che cosa gli ha risposto? Sì, soltanto chiama hanno una convistazione praticamente in atto in atto di soli che si capiscono come capiamo noi che parliamo e che parlano e che parlano così è un linguaggio animalesco esatto va bene allora poi abbiamo detto la gallina la gallina quando fa l'uovo quando fa l'uovo un po' ci faccia il cane vediamo guardi dagli spettatori che tipo di cane era questo? un cane grosso che è aggressivo ci faccia il cane piccolo vediamo com'è questo era un cane più piccolo esatto va bene ora ci faccia un cane mi segua un cane arrapato è difficile è un po' difficile è un po' difficile è un po' difficile sai i cani quando si arrapano giustamente hanno un altro timbolo di voce giusto? ma dopo ci sono il piano non fanno forte e come fanno? e mucinano le scaglie e prendere il pilo lo mettere così il pilo il pilo oh yeah è un po' difficile